Il pranzo è servito, si fa bene con la famiglia intera. Altro che. C'è là un saldo a gente? Perché? Le patate alligano nella salsa. Dove siamo qui? Un paese qua o mai. Ma lei non si distende mai in quello? Certo. Davvero? E cosa fa per divagarsi? Cerco guai. Scherzo. Volevo dire, ha mai avuto una relazione? Affettiva? Sì, con una donna. Una cosa seria, un bel regano? Sì, più o meno. No, 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 mai niente di conterlo. Perché? Beh, diciamo che poche persone mi supportano il mio sistema di vita. Ma se ne trovassimo? Direi che deve essere una tutta sciroppata. Questa è una tutta sciroppata. Grazie a tutti